buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 10 aprile 2024 il tempo leggermente si sta perturbando probabilmente a fine settimana tornerà sereno ma vedremo poi le condizioni del tempo le condizioni atmosferiche della giornata di oggi intanto procediamo come sempre con l'almanacco del giorno e troviamo il santo che si festeggia oggi è una santa è una santa che visse a cavallo tra il 1700 e il 1800 ed è santa maddalena di canossa che nacque a verona da nobile e ricca famiglia terza di sei fratelli incaricata dopo la morte del padre di gestire il patrimonio di famiglia un patrimonio sostanzioso era particolarmente dedicata all'aiuto dei poveri ebbene i poveri divennero il suo obiettivo di salvezza operò molto nei quartieri più poveri all'inizio della sua verona e poi trasferì questo sentimento di carità in altre città come milano venezia bergamo trento operò in diverse località delle dell'alta italia e fondò le figlie della carità cui seguì poi quella dei figli della carità ovvero quella dedicata al reparto maschile e tutte queste tutte queste istituzioni furono poi approvate da papa leone dodicesimo pochi anni dopo il 1800 siamo tra il 1828 e il 1830 dopo pochi anni maddalena morì ma ancora oggi la si ricorda con particolare devozione ed ora passiamo alle previsioni del tempo oggi vediamo che le nubi sono in progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio e poi ci saranno ulteriori schiarite in serata i previsti 0 4 mm di pioggia i venti saranno al mattino deboli al pomeriggio moderati le temperature 11 la minima 18 la massima il sole è sorto questa mattina alle 6 e 32 e tramonterà alle 19 e 44 e bene con queste previsioni ci apprestiamo a vivere un'altra giornata partendo però questa mattina come sempre dalla lettura ai giornali della lettura dei giornali e vediamo la pagina di fano del resto del carlino la palla apertura è dedicata ad una intervista che il giornalista fa a etienne lucarelli attualmente assessore al turismo e alle attività economiche del comune di fano ma in qualità di candidato sindaco ebbene etienne lucarelli purtroppo non ne gliel'ha fatta purtroppo per lui così come per cora fattori che sono rimasti due esclusi dalle delle dalle primarie che si faranno ancora come ballottaggio domenica prossima tra cristian fanesi e samuele mascarin e samuele mascarin ha avuto il massimo dei voti oltre 900 voti vediamo subito il titolo che appare sul resto del carlino lucarelli io sconfitto tutt'altro per me nessun cambio di sponda nessun cambio di sponda nel senso che c'erano già sorte delle voci che volevano lucarelli che fosse spostato verso il centrodestra ma lucarelli nega decisamente questa eventualità l'assessore terzo classificato alle primarie ribadisce il mio progetto civico prosegue nel centro-sinistra e ovviamente dopo aver inaugurato la sua sede sabato scorso in piazza costanzi punto di riferimento per il civismo che si riconosce nel centro-sinistra lucarelli ovviamente continuerà la sua campagna politica per ottenere un posto in consiglio comunale e vediamo qualche risposto qualche risposta che ha dato ai giornalisti certo che uno quando concorre lo fa per vincere ma è anche vera un'altra cosa è anche vero che le persone che vanno a votare per le primarie sono fondamentalmente tutte legate ai partiti sono organizzate e partitiche ebbene questo non è accaduto per etienne lucarelli che alle sue spalle non aveva un partito strutturato che lo sostenesse ebbene quindi ha fatto una campagna elettorale finalizzata a persona a persona ha incontrato le associazioni ha incontrato i quartieri e ha esposto il suo progetto politico quindi prendere il 25 per cento come ha preso la mia lista dice lucarelli direi che è un successo e tutto questo vuol dire un'altra cosa ovvero che il progetto civico che è stato messo in piedi ha riscontrato un futuro e bisogna investirci e anche crederci i miei voti arrivano da gente che è andata alle urne per votare me e non arrivano da assemblee di partito quindi un successo personale per lucarelli anche se non è riuscito ad arrivare al balottaggio insomma per poi competere decisamente risolutamente per la candidatura a sindaco e dall'altra parte invece luca serfilippi candidato sindaco formalizzato del centro destra dice ma quale civismo ho visto solo una resa di conti e serfilippi gira il coltello nella ferita del centro sinistra dicendo che insomma le primarie sono state secondo lui un flop c'è stato un calo di votanti alle primarie rispetto alle precedenti quando fu poi eletto il sindaco massimo seri oltre mille voti in meno e dice che il civismo non è quello di centro sinistra ma è quello di centro destra perché poi anche nel centro destra ci sono c'è una lista che si richiama appunto alla partecipazione diretta dei cittadini il civismo nel centro sinistra non esiste più ha detto e non a caso da settimane incontriamo cittadini provenienti da quei mondi che vogliono sposare il nostro progetto ha detto lucarelli è questo per quanto riguarda la competizione politica ne sentiremo un po di tutti i colori da qui fino a giugno intanto dobbiamo così aspettare l'esito delle elezioni di domenica prossima l'invito a tutti è quello di andare a votare perché poi uno può votare chi vuole ma così esprimere un voto vuol dire dare un contributo poi alla gestione dei prossimi cinque anni per la città di fano il che è molto molto importante vediamo la cronaca vediamo la cronaca vediamo che c'è un extracomunitario che va al commissariato per chiedere un documento e si accorge che è soggetto a un foglio di via e quindi deve essere instradato a un albanese e quindi deve tornare in albania chiede un documento in tribunale invece rimedia un foglio di via aveva bisogno di un certificato ma dai controlli emerso che era irregolare e nel 2003 aveva pure scippato un anziano si aveva scippato un anziano in centro gli aveva rubato una catenina d'oro e quindi se lui se l'era dimenticata questa cosa ma la giustizia no e quindi il momento in cui lui si è presentato gli sono scattati tutti i provvedimenti per cui deve tornare in patria vediamo anche questo articolo di spalla che ci evidenzia come si rivitalizza l'aeroclub di Fano una storica istituzione che collabora molto attivamente alla gestione dell'aeroporto e all'attività la promozione dell'aeroporto stesso che è un piccolo gioiellino per la nostra città in quanto situato nel centro Italia costituisce una base d'appoggio per tutti coloro che trasvolano le nostre regioni vanno da nord a sud o da sud a nord e quindi magari atterrano a Fano fanno benzina usufruiscono dei servizi e magari si accorgono che Fano è una bella città e allora ci passano anche le vacanze ebbene l'aeroclub di Fano ha avuto un nuovo consiglio direttivo in cui è entrato anche Massimo Berloni Massimo Berloni è un imprenditore ma sappiamo tutto che tutti che è anche il sindaco di Fossombrone e quindi anche lui è un pilota da lungo corso tra l'altro il motore della manifestazione paracadutistica paradrenalina una manifestazione che è riservata ai portatori di handicap ai disabili per i quali anche a loro c'è l'emozione del volo e della caduta della caduta con il paracadute pensate cose veramente eccezionali d'altri di tempi impensabili comunque il programma lanciato dal aeroclub è particolarmente ambizioso c'è la ripresa di paradrenalina interrotta dal covid e poi si pensa anche di fare tornare a Fano il grande spettacolo delle frecce tricolori e poi ancora giornate di cultura aeronautica con l'aeronautica militare iniziative culturali visite dei bambini delle elementari ai battesimi di volo il nuovo direttivo ha istituito anche un settore organizzativo dedicato alla promozione degli eventi sociali si punta ad ampliare in modo particolare i rapporti con la cittadinanza renderli più stretti rendere visibile questa realtà sociale che lavora sempre ma lavora magari in maniera appartata e ora invece vuole evidenziarsi perché è giusto che sia così e rendersi più partecipe con i rapporti con i cittadini. Vediamo ora quello che sta accadendo a San Cesareo San Cesareo è un nucleo di case nei pressi di Carrara limite del territorio comunale di Fano ma qui c'è una banda di ragazzini insomma che impera e sbaracca tutto nei giorni scorsi ha dato fuoco ad un tavolo in un parco ed ora la gente si sta stancando ennesimo appello al comune e alla polizia locale da parte dei residenti riuniti nell'associazione Carrara insieme che non si occupa soltanto dei problemi scaturiti da Terna ma si occupa anche dei problemi sociali della sua frazione e questa banda di ragazzini che sta facendo da matti insomma da molto fastidio alla quiete pubblica danneggiando addirittura beni della comunità e ora dovrebbero essere così sistemati posti da una parte in modo che non insorgano di nuovo veniamo a Pergola veniamo a Pergola e veniamo che un disabile volò nel vano Scala fu un incidente ma quel vano non era sufficientemente protetto si tratta di una residenza psichiatrica di Pergola dove il disabile sette anni fa era ricoverato ebbene si sporse troppo dalla balaustra che era forse troppo bassa cadde di sotto nel vuoto ed ora il giudice ha condannato appunto i responsabili della comunità a risarcire con 200 mila euro un risarcimento sostanzioso la vittima di questo infortunio. La ringhiera era alta poco più di un metro e senza altri sistemi di protezione installati poi solo successivamente in base a quanto era avvenuto. Il sindaco di San Lorenzo in campo Dell'Onti lo vediamo qui Davide Dell'Onti tenta il terzo mandato Davide Dell'Onti è stato il protagonista di una rinascita della sua frazione molti lavori pubblici che la stampa ha riportato per quanto riguarda il terreno il territorio comunale ce n'è poi anche uno in corso proprio in questo momento Davide Dell'Onti tenta il trisse ma stavolta potrebbe non essere solo il sindaco è pronto ha detto ad un altro mandato so che ex amministratori stanno cercando di costruire una lista e beh ci sarà una bella competizione intanto lui ovviamente parte con un vantaggio di opere eseguite durante i suoi mandati Urbino dà l'addio a Paolo Lonzi storico albergatore e ristoratore di Urbino ha illustrato, ha dato lustro nel senso, ha dato lustro alla sua città prima con il ristorante Il Coppiere poi diventato Osteria della Stella poi con il Raffaello è morto, si è spento a 67 anni dopo una malattia ed era solito vederlo a passeggio tra via Raffaello e Santa Margherita con il suo affezionato cane i suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Bernardino che è la chiesa dei duchi la chiesa nei pressi del cimitero appunto ad Urbino Volponi, memoria onorata le celebrazioni sono legge ed è una legge che porta la firma di Marta Ruggeri il Consiglio regionale ha approvato la proposta presentata dalla consigliera regionale fanese che prevede l'organizzazione di incontri e convegni per il centenario della nascita Paolo Volponi un grande letterato, un grande uomo di cultura della nostra provincia un grande urbinate che deve essere commemorato, ricordato, studiato nel modo dovuto per il rilievo che ha avuto appunto della cultura del secolo scorso caso paleoliche arriva il no del presidente dell'Unione Montana c'è una ditta estera che aveva così preventivato di realizzare delle grosse paleoliche alte tantissimo tantissimo 200 metri pensate alte 200 metri pensate che la Torre Efele è alta 300 metri queste sono alte poco meno 100 metri in meno ma sono altissime e avrebbero certamente connaturato il panorama del Sasso Simone e Simoncello oltre Carpegna è in territorio toscano però insomma siamo al limite del confine con le Marche e tutto il territorio bellissimo incontaminato delle colline dell'Apennino un tosco marchigiano sarebbe stato compromesso e quindi il presidente dell'Unione Montana Andrea Spagna ha detto no alla commissione la commissione ministeriale che deve dare l'assenso donazione organi Cantiano Generosa è seconda in regione oltre 1534 cittadini su 2050 abitanti hanno scritto a consento sul documento di identità nel momento in cui uno va a rinnovare la sua carta di identità dopo il suo compleanno ebbene deve dichiarare se è disponibile o meno alla donazione degli organi e tantissime addirittura quasi più di tre quarti dei cittadini di Cantiano hanno detto sì quindi un clima di generosità molto molto condiviso e molto partecipato in questa cittadina dell'entroterra fattoria della legalità siano ripristinati i fondi è un appello che giunge dalla consigliera Micaela Vitri ad Acquaroli la consigliera del Partito Democratico in regione sostenga i comuni che gestiscono i beni confiscati ed è questa una richiesta che dovrebbe essere giustificata dall'aspetto sociale della questione perché poi i beni confiscati alla mafia vengono usati per scopi che vanno a beneficio di tutti passiamo ora alle notizie di Pesaro pubblicate dal resto del Carlino e vediamo un episodio di cronaca che ha una nuova evoluzione molesti a scuola a lettera al ministero il prof va trasferito ebbene è l'avvocato delle due ragazze che ora chiede formalmente al ministero che il professore accusato appunto di avere molestato sessualmente due allieve che rimane ancora fa lavora in questa scuola venga trasferito almeno in un'altra scuola l'avvocato Pia Perrucci ha indirizzato ieri una richiesta formale all'ufficio di gabinetto del ministero dell'istruzione al direttore generale del MIUR Marche e alla dirigente dell'istituto Benelli Anna Maria Marinai oggetto dell'istanza il trasferimento del docente riviato a giudizio il 6 marzo per violenza sessuale su quattro studentesse che ancora frequentano la scuola un provvedimento insomma che quantomeno dovrebbe così tutelare perché poi incontrare di nuovo le parti insomma tra le parti l'incontro non è certo una cosa così piacevole ed ora rievochiamo per un attimo ma brevemente brevemente il fatto che vede che vede Lucia Annibale sfregiata nel volto con l'acido da parte di Varani di Varani che è in prigione ha avuto 20 anni di prigione in una prigione abruzzese ebbene ha avuto il suo primo permesso quello di poter sostare per tre giorni nella casa di Pesaro dei suoi genitori Varani il permesso premio in zona mare tre giorni ma non poteva mai uscire di casa ovviamente sempre in prigione quindi questo è una è un provvedimento di arresti domiciliari particolarmente tutelato particolarmente protetto era in detenzione domiciliare l'ex avvocato persecutore di Lucia è arrivato sabato ed è ripartito ieri controllato dalle forze dell'ordine è il primo permesso che dall'epoca in cui è stato compiuta questa aggressione il persecutore ha ottenuto dal giudice per buona condotta ovviamente e parliamo anche di Maxi Intenne ne parliamo spesso sui giornali in quest'ultimi tempi Maxi Intenne una finirà al cimitero no ad un'altra sul tetto del comune contestato il ripetitore di muraglia in via Beccaria sarà posizionato nel parcheggio del Camposanto primo stop all'impianto previsto sopra il municipio che sarebbe molto visibile dalla piazza ma non è finita è certo che deturbare deturbare questo paesaggio nel centro storico dove poi confluiscono tutte le persone dove ci sono tutte le manifestazioni pesaresi con un'alta antenna non è certo il massimo per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente e poi parliamo dei vigili del fuoco perché ieri sia a Pesaro che a Fano è intervenuto il sottosegretario del ministero degli interni Emanuele Prisco che ha una carriera lui stesso proviene dai vigili del fuoco che ha parlato di sicurezza e ha parlato anche di rimpinguare l'organico dei vigili del fuoco che è molto carente vigili del fuoco si riparte da zero per la nuova caserma serve più spazio ha detto ieri visita del sottosegretario all'interno e dobbiamo dire che ieri ha visitato Fano anche ed ha partecipato ad un incontro organizzato da Fratelli d'Italia pensioni i conti non tornano due su tre sotto i mille euro e alle donne in porti dimezzati i dati dell'Inps sono dati molto molto severi parlano di molte persone che sono sotto la soglia di povertà 970 3 euro è la media degli assegni ma il 70% delle lavoratrici in congedo non arriva a 750 euro lordi il che significa una pensione di 500 400 qualcosa euro al mese è certo che con queste cifre non si vive ed è bisogna per forza rimpinguarle facendo altri lavori mettiamo da una parte il resto del Carlino e diamo un'occhiata oggi al Corriere Adriatico dove l'apertura a Sufano è dedicata a quello che in questi giorni sta avvenendo in Consiglio Comunale c'è una serie ininterrotta di sedute basta collegarsi sul sito del Comune e vedere Consiglio Comunale online per così assistere alle sedute sono le sedute dedicate alla discussione delle contradduzioni che i tecnici dell'urbanistica hanno apportato alle osservazioni dei cittadini e in base a queste contradduzioni i consiglieri debbano approvare le osservazioni o meno e sono diverse sono 270 le osservazioni ma sono articolate in più punti per cui alla fine ogni voto deve vertere su 433 punti in discussione e sono delle osservazioni che hanno fatto i cittadini c'è chi dice di spostare un parcheggio c'è chi dice che vorrebbe così spostare la classificazione urbanistica del proprio terreno da area verde ad area abitativa e ci sono altre istanze persone che obiettano certe decisioni per quanto riguarda frustoli di terreno per quanto riguarda la possibilità di ampliare o meno la propria abitazione per cambiare la funzione degli edifici insomma ci sono tanti tanti argomenti ed è un fuoco di fila veramente che si è dilungato per diverse ore durante la prima riunione che si è svolta l'altra sera ieri sera poi un'altra riunione con altre osservazioni in dibattito tra maggioranza e opposizione ma insomma in realtà che cosa accade accade che da una parte l'opposizione contesta all'amministrazione comunale delle scelte che vengono definite opportunistiche anche perché risentirebbero del clima elettorale dall'altra invece si vuole applicare un sistema di salvaguardia del territorio e allo stesso tempo cercare di accontentare alcuni cittadini che avanzano determinate istanze come per esempio la classificazione e l'ammissibilità delle B3 in zona agricola che là dove la zona agricola è vincolata perché magari si trova in collina oppure in un contesto ambientale di particolare pregio viene vietata mentre magari dove si trova in pianura e lontana dalle case viene vicina alle case viene accolta e ci sono insomma problemi dibattito in questo senso ma proseguiamo alla cremente che siamo in conclusione per le notizie che vengono pubblicate dal Corriere Adriatico c'è il Movimento 5 Stelle che rivendica il diritto di aver così fatto sorgere per primo il problema delle industrie insalubri allo zuccherificio un commento del segretario del Partito Democratico Renato Claudio Minardi sull'esito delle primarie e poi l'articolo che riguarda la sicurezza il convegno sulla sicurezza organizzato da Fratelli d'Italia ieri nella Sala della Cultura che continua ad avere lo diciamo così per il pubblico una pessima acustica difficile seguire i convegni in quella sala e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci